Ciao a tutti! Oggi prepareremo il cremoso al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa. Gli ingredienti sono pasta di limone, sciroppo di limone, panna montata, mascarpone e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il mascarpone ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 3. Aggiungere la pasta di limone, lo sciroppo di limone ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 2. Versare il composto in una ciotola. Aggiungere la panna montata ed amalgamare delicatamente. in frigo per almeno un'ora cremoso al limone. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!